bentornati su radio design dopo una puntata veramente spumeggiante che riguarda la politica bellissimo contest vinci salmini salvini oggi torniamo ancora parlando di profilazione e parliamo di una cosa che non ha nessuno a casa non sto parlando di una spira polvere incredibile parlo di netflix giusto non ce l'ha nessuno no netflix non ce l'ha praticamente nessuno un flop commerciale da tutti i punti di vista direi esatto parliamo di un fallimento annunciato e spieghiamo perché fallisce ogni giorno prima di tutto una precisazione visto che abbiamo la schiena molto dritta e siamo molto coraggiosi dopo aver parlato di politica ci mettiamo a riparlare di netflix così nessun problema per nessuno a parte gli scherzi esatto stiamo cancellando tutti i potenziali clienti assolutamente e io non ti ho mai conosciuto esatto non sai quanta gente mentre io dicevo cloaca e tu dicevi lo ha detto mi hanno scritto tutti ha detto lo ha detto mentre io dicevo cloaca è stato bello questo ndr puntata la scorsa splendido comunque vivremo della gloria riflessa di quella puntata per sempre quindi il nostro il nostro capolavoro ormai alle nostre spalle detto questo ci lanciamo in questa nuova fesseria scherzi a parte parliamo di qualcosa di veramente molto serio perché lo staff di linkedin pazzerello si è piazzato sul divano e ha iniziato a a mandare in onda un sacco di contenuti della piattaforma questi contenuti sono andati a profilare degli utenti ideali come sapete netflix ha un algoritmo che consente di profilare le preferenze di ciascun utente che ha il proprio profilo per appunto e non è un caso e poi propone dei contenuti questo basta nicolo ha fatto qualcosa di più netflix netflix che non riesco a dirlo mai netflix perché non mi paga non riesco a dirlo dico male netflix che cosa fate è riuscito addirittura a profilare così tanto i clienti da determinare ogni volta quale anteprima dei video far vedere a me succede ogni giorno sia incredibile questa cosa perché se tu pensi che non solo ti viene proposto un contenuto ma scelgono addirittura come venderti quel contenuto hanno fatto un esempio concreto che ho letto in questo articolo proprio pubblicato dallo staff di linkedin prendere un film x se tu hai dimostrato un'inclinazione verso i film action verrà proiettata la scena più alta tensione se invece ti sei dimostrato un tipo romantico ci sarà una scena dove il personaggio principale è vicino al proprio amore questa cosa è mostruosa però è fantastica perché dal punto di vista del marketing infatti l'articolo era intitolato se netflix stia proprio solcando il futuro del marketing cioè il marketing che vedremo nel futuro la risposta è sì lo sta facendo però per fare questo tipo di azioni molto complesse che richiedono un hardware straordinario servono tutti quei dati e un'azienda normale per ora quei dati non ce l'ha tu pensa da naif ho pensato quando cominciavano a cambiare le anteprime ho detto ok mi cambia l'anteprime così reattiva in me il desiderio di vedere qualcosa perché ho pensato magari ogni giorno diceva proviamo in un modo nuovo a fargli rivedere un contenuto ero quasi arrivato la soluzione c'è arrivato davvero perché comunque è un'interazione dialogica con l'utente quindi non non ti limiti semplicemente a dirgli e io ho questo contenuto no arrivi addirittura a comunicargli questo contenuto in un dato modo preciso e non è una cosa che avviene casualmente come abbiamo detto l'algoritmo per carità non potrà conoscere ogni sfumatura del nostro gusto quindi verremo profilati in dei macro cluster qualcuno andrà a finire nell'area simpaticone quindi si si beccherà più solo io sì sei sicuramente tu io invece sono quello depresso quindi a me vengono sempre depressione mi viene proposto infatti black mirror anche se l'ho visto 700 milioni di volte tra parentesi riparleremo di black mirror presto per sta per tornare tanti mi hanno detto che sarà una delusione non so perché delusione annunciatissima visti gli ultimi sviluppi secondo me del progetto black mirror però noi ne parleremo senza certo perché abbiamo parlato anche ritrovate la puntata abbiamo parlato di band snatch proprio a proposito della raccolta dati compiuta da netflix e cosa fa con tutti quei dati e i sviluppi sono sempre più interessanti da questo punto di vista esatto stranamente tutto ciò si è trasformato in un meta racconto di come netflix poi fa marketing perché sostanzialmente band snatch sono vi ricordate era un film dove un film insomma sì un one shot un film a conti fatti dove era possibile scegliere le azioni del personaggio dei personaggi e adesso casualmente grazie ai matching dei big data che sono presenti all'interno del database di netflix netflix stesso ci fa vedere le prime in base alle nostre preferenze ma infatti noi gioca band snatch con noi l'avevamo detto quando abbiamo parlato di band snatch ok non state tanto a giudicare la trama a lui è piaciuto abbastanza a me non è piaciuto ma era quello il fulcro della cosa loro hanno mostrato proprio i muscoli dal punto di vista tecnico hanno fatto vedere cosa possono fare cosa faranno d'ora in avanti e i dati che possono raccogliere perché c'era tantissimo product placement quindi questa strategia di marketing integrato gamification è una di quelle parole terrificanti che ogni tanto diciamo però fondamentalmente è condurre l'utente il potenziale cliente dentro un percorso ludico di gioco per intrattenerlo per creare engagement per stabilire un rapporto tramite questo canale è possibile sapere tutto dei propri dei suoi gusti delle proprie delle sue abitudini d'acquisto e convincerlo a comprare ulteriori cose infatti come vedete questi dati sono usati per proporti nel modo più efficiente possibile un dato contenuto un prodotto che già c'è esatto poi facendo un po un discorso molto più ampio è che ho notato facendo lezione che stupisce molto le persone il cosiddetto marketing diciamo la il retargeting dinamico cos'è il retargeting dinamico è quella cosa che vedete sempre di amazon che vi ripropone poi puntualmente i prodotti che avete visto negli ultimi 30 giorni 15 giorni in base poi dei parametri scelti da loro ufficio marketing digital che fa proprio questo cioè fa un matching tra le cose che voi andate a vedere sulla piattaforma e poi tramite social media amazon vi rincorre riproponendovi cose che vi erano già piaciute o comunque prova a raccontare salutiamo le nostre studentesse che passano a riproporvi poi prodotti per portarvi alla conversione e in qualche modo questo è molto legato anche a questa cosa che sta facendo netflix certamente questo è un qualcosa che va anche oltre direi si integra proprio in tutto questo percorso del che il cliente compie dal momento in cui conosce il brand fino a quando arriva a compiere l'acquisto uno dei più grandi problemi per chi fa soprattutto commercio elettronico è quello dei carrelli abbandonati e le campagne remarketing delle quali parlava nicola quindi l'utente dimostra interesse per un dato prodotto non effettua l'acquisto e dopo viene continuamente inseguito da banner che parlano di quel prodotto questo è il remarketing il remarketing fondamentalmente è un modo per sparare al fuggitivo più né meno cioè ti sei salvato e ti sparo addosso continuo a spararti addosso sono campagne costose questo bisogna dobbiamo precisarlo il remarketing fatto bene costa caro però esistono anche degli strumenti legati alle piattaforme social che consentono per l'appunto di fare remarketing pensiamo al pixel di facebook che altro non è che un pezzettino di codice piccolo 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 serve proprio per fare marketing come funziona è molto interessante quando lo spiego la gente dice oddio funziona in questo modo praticamente il sistema di diciamo della piattaforma il power editor si chiama così lo strumento di facebook per fare le campagne vi permette tramite il pixel di tracciare le persone e addirittura questo pixel si può posizionare in ogni punto diciamo del customer journey cioè il percorso che voi fate per acquistare qualcosa quindi addirittura c'è un codice su ogni prodotto che c'è su amazon quindi parliamo di milioni di prodotti tutti questi dati questo database con i codici viene caricato sul power editor crea una audience e puntualmente ogni giorno il sistema cosa fa dice fai vedere dopo due giorni che qualcuno ha visto un prodotto faglielo rivedere è calcolato che è stato calcolato che una persona per arrivare all'acquisto spesso deve rivedere un prodotto più di 30 40 volte ecco cosa serve il marketing questo tipo di remarketing dinamico cioè ossessionarvi per portarvi poi all'acquisto di un determinato prodotto come funziona sempre funziona tra l'altro l'hai spiegato molto meglio di come avrebbe fatto zuckerberg cioè sei stato perfetto lui non lo spiega perché sono poi le persone dicono così che mi fottono non lo faccio più esattamente è così che ti fottono perché è vero dovete pensare alle nuove abitudini d'acquisto quali sono pensate a come vi comportate voi sono usciti dei dati riguardo ai abitudini di acquisto dei italiani nel 2018 dati raccolti da idealo e praticamente è stato dimostrato che la stragrande maggioranza di italiani prima di concludere un acquisto si rivolgono ai comparatori di prezzi quindi anche l'abitudine ormai è quella di visionare un prodotto sia che sia nello store fisico o quello online cercare di comprare i prezzi guardare le recensioni consultare le opinioni e solo poi comprare quindi per questo serve il remarketing non è uno sforzo inutile verrebbe da pensare se non l'ha comprato ora non lo comprerà mai no è un errore perché bisogna continuare a inseguire il cliente oggi più che mai quindi non pensare che le vendite avvengano da sole per magia ma sapere che bisogna instaurare un rapporto duraturo io non so cosa stai facendo ok devo attaccare il computer se no ci chiude tu continua a spiegare questo è stato bellissimo no questo è un concetto chiave del marketing digitale comunque sapere che il cliente non si comporta soltanto di impulso perché si parla molto di marketing emozionale di condurre campagne basate sul senso sul sentire ma in realtà il rapporto deve essere duraturo perché esistono varie fasi del pensiero varie fasi di attivazione dell'utente che dovrà ragionare riflettere e capire che quello acquisto è ciò che fa per lui adesso voglio fare un pensiero così super aperto su provare a fare un matching tra questo discorso cioè il remarketing dinamico e netflix ne stavo pensando pensando quanto potrebbe essere figo diciamo portare un cliente sono proprio tipo cose estreme portare un cliente da netflix quindi quanto potrebbe essere figo avere i dati di netflix secondo me già lo sta facendo quindi trasferire questi dati di netflix a facebook o ad altre diciamo grandi aziende che fanno profilazione quant'altro e provare poi a fare un remarketing dinamico in base a quello che le persone guardano su netflix devastante e non ho dubbi che l'idea sia concreta e mi pagheranno un sacco di soldi perché sono il primo che ci ho pensato sì sì sicuramente diventeremo ricchi voi ci prendete in giro ma diventeremo molto molto ricchi no no io tu non l'hai detto ma io volevo partecipare aiutili no no tu zero però ho contribuito al processo creativo no sti cazzi si chiama brainstorming no mi interessa a parte che l'abbiamo fatto adesso si sveglia un prestito almeno adesso si svegliano i nostri due fan che sono laura barberi e va subito da netflix a dirlo e anche sofia potrebbe andare dicendo questo ti sfido sofia dirlo figo come l'ho detto io questa cosa spiegarlo in modo figo ci conto attenzione siamo ai contest ormai vinci nicola palumbo vinci quello vinci quello no torna vinci palumbo per far scontenti professoroni esatto esatto non riusciamo a non parlarne non riusciamo a non parlare meno di 20 minuti questo lo stavo dicendo è un problema che gli anziani hanno no questa è una cosa molto figa lancio l'idea di parlare del f8 cioè il keynote di mark zuckerberg che la settimana scorsa poi ha lanciato le novità di facebook ne parleremo approfonditamente perché ci sono diverse novità e tutto si basa su un concetto fondamentale che è la privacy vi lancio questa cosa questo salame in mezzo al corridoio ai maiali metà fuori raffinatissime eh che galantuoni ma dopo cloaca devo cercare un termine molto catchy e ci sono riuscito ma cloaca sarà la cosa per la quale ti ricorderanno esatto ma va bene qualcuno ride valeria castellani grandissima ah volevo dire questa cosa domenica evento strafigo ho intervistato laura barberi l'altra settimana ci saranno un sacco di influencer al mic di eh cortone c'è anche valeria che ride tantissimo e anche in quell'occasione proveremo tramite radio design a intervistare un sacco di bomber instagram e quant'altro e ci sarà l'empty museum quindi il museo vuoto a disposizione di instagram e poi ovviamente se magna quindi non potevo mancare ok ecco quando se magna non manchiamo mai ringrazio per l'invito perché io non sono un influencer ma sono semplicemente un esperto di tante cose un bellissimo ragazzo infatti mi sono perso nei tuoi occhi sono blu come i puffi il puffo pelato che mancava alla collezione questo sono io è stato un sogno e netflix continua a fare delle cose fighissime e avanti e avanti anni luce infatti i tentativi dei grandi player che si sono affacciati ora sul mercato dello streaming digitale penso a disney che ha buttato ciaone sacco di soldi secondo me per il momento non daranno frutti quindi chi vuole rompere le balle a netflix dovrà mettere in preventivo di spendere soldi non ora non tra un anno ma per diversi anni quindi ci vuole uno sforzo continuativo per farli fuori per chiudere questa cosa bellissima molto tecnica molto meno marketing netflix ha un brevetto da anni ed un brevetto unico al mondo che permette di creare la compressione video perfetta in base alla velocità del vostro della vostra connessione internet non si blocca mai ed è una tecnologia devastante io ho visto il grafico ci sono degli studi giganteschi loro hanno un brevetto quindi è tutto loro nessuno può usarlo e non a caso now tv che funziona così niente funziona come lo streaming di netflix fa paura c'è un problema però che la maggior parte del tempo che io passo su netflix la passo a decidere cosa cazzo guardare è questo problema è un gravissimo problema perché il divertimento è il 3 per cento il 97 per cento è tipo guardiamo questo non mi piace mi sembra quindi niente si rivela un'esperienza molto deludente per me mi volevo sfogare scene di vita vissuta netflix è quel pendolo che oscilla tra lo zapping e il watching e qui lancio drop the mic e non so più cosa dire è stato è stato bellissimo ragazzi e rimango solo io ormai nicola sta su un'altra dimensione stava volando troppo alto non riprendiamo più non lo riprendiamo più è stato un sogno